Il ritorno di Anastasia In esclusiva con Repubblica e XL Il nuovo album It's a Man's World Dai Led Zeppelin ai Rolling Stones Dagli ACDC agli U2 Un progetto speciale Dieci cover di Classici Rock Per riscoprire la forza di una voce Unica al mondo In edicola con Repubblica o XL